Riprende il campionato di eccellenza dopo 39 giorni e l'Avezzano risponde subito al Giulianova con una cinquina rifilata allo spoltore. Ma sono proprio i padroni di casa a partire meglio 30 secondi belli conclusione di sinistro e sfera che si infila all'incrocio dei pali con Venditti battuto risponde subito l'Avezzano con Dos Santos conclusione ad incrociare ma Palena risponde presente. Capovolgimento di fronte azione planamente sborge a Selva Allegra conclusione di quest'ultimo che Venditti devia in calcio d'angolo. Il pari arriva al minuto 19 di Camillo ferma Dos Santos calcio di punizione disegna una parabola perfetta che si insacca sotto l'incrocio dei pali risponde lo spoltore su azione di calcio d'angolo il colpo di testa di Belli sul fondo. 60 secondi svarione difensivo spoltorese Dos Santos si apre un'autostrada e per il numero 9 è un gioco da ragazzi fare 2 a 1. Passano 5 minuti arriva il Tris pallone innocuo in area di rigore connestare anticipa Palena in uscita e 3 a 1 per l'Avezzano. Nuovamente lo spoltore si fa trovare impreparato questa volta è pendenza a involarsi in area di rigore la sua conclusione viene deviata da connestari. L'ultima azione degna di note di planamento al minuto 36 la conclusione termina sul fondo. E con le immagini montate da Flavio Forcellese passiamo alla ripresa si apre nuovamente nel segno dell'Avezzano errore in disimpegno dello spoltore ne approfitta Dos Santos che impegna nuovamente il portiere di casa sul proseguo dell'azione. Arriva il calcio di rigore dal dischetto lo stesso numero 9 che calcia all'angoletto dove Palena non può arrivare per l'1 a 4. Nuovamente Avezzano al quattordicesimo chiude la cinquina con il solito Dos Santos al termine di una bellissima azione tutta di prima dei biancoverdi che fa 1 a 5 e la sua tripletta personale. Nuovamente Avezzano alla ventesima azione personale di Lombardo che fa tutto bene tranne la conclusione che termina di un soffio a lato. Al ventunesimo si rivede lo spoltore planamente conclusione deviata in calcio d'angolo nei restanti minuti. L'Avezzano controlla la partita e porta a casa tre punti importanti. Seconda sconfitta consecutiva per lo spoltore dopo lo stop del 22 dicembre contro il Capistrello. E domenica prossima a Montesilvano c'è bisogno del pronto riscatto. Mister Torti è arrivata la risposta del suo Avezzano 5 a 1 sullo spoltore. Cosa dire partita praticamente perfetta se non forse se vogliamo trovare una pecca a quell'inizio dove vi siete fatti cogliere di sorpresa ma poi c'è stata la reazione ovviamente della sua squadra. Sì hai ragione ci siamo fatti sorprendere all'inizio dopo 30 secondi neanche un minuto. Ci hanno fatto colpa però noi abbiamo reagito forte subito abbiamo sempre comandato la partita e devo dire i ragazzi hanno fatto una grandissima partita. Non era semplice perché ovviamente come hai detto tu sapere del risultato del giugno a ieri magari poteva condizionarci. Invece devo dire che la squadra ha fatto veramente bene bene bisogna fare un grande elogio a questi ragazzi. Fiumi di parole si scrive tanto su Dos Santos ma questo giocatore è veramente incredibile. Noi l'abbiamo preso per quello è un giocatore straordinario oltre che è anche un uomo di spogliatoio è un professionista esemplare che si porta dietro tutti. Per cui sono molto fortunato a allenarlo lui come tutti gli altri perché anche gli altri Zanon che purtroppo oggi non c'è Sassarini, Crass, Bisegna sono tutta gente che si allena e vogliosi bene e vogliono arrivare. Mister Del Gallo si torna in campo dopo 39 giorni e affrontare questa Vezzano è stato veramente duro anche se la partenza è stata ottima dello spoltore. Abbiamo provato a giocarci la pari e purtroppo abbiamo tenuto solo 15-20 minuti dopo la Vezzano ha trovato il gol del pareggio e effettivamente abbiamo avuto delle grandi difficoltà soprattutto fisiche. Purtroppo non ci siamo potuti allenare costantemente, io sono rientrato l'altro ieri quindi abbiamo avuto delle difficoltà importanti. Mi dispiace perché la sconfitta è pesante però ci può stare perché comunque a fronte di una squadra fortissima a cui giro i complimenti, complimenti al loro mister. Noi possiamo fare sicuramente meglio, non possiamo essere questi. Condizionati anche dal Covid purtroppo nelle ultime settimane. Sì ma questo penso che sia una cosa generale a cui dovremmo far fronte costantemente quindi non ci possiamo sicuramente piangere per questa cosa. Dobbiamo già pensare alla prossima partita che per noi rappresenta uno scontro diretto.